E' una giornata speciale importante per il comune di Roseto degli Abruzzi. Siamo a sud della città delle Rose, in via Fonte dell'Olmo, angolo via Mavone. Questa palazzina di tre piani più il sottotetto, tre appartamenti, uno per ogni piano, venne sequestrata nel 2004 a una famiglia Rom, perché la stava costruendo con i proventi di attività di usura. La palazzina è stata sequestrata, è passata all'Agenzia del Demanio, che l'ha tenuta in custodia durante i gradi di giudizio. Arrivata la Cassazione, che ha confermato la sentenza, l'edificio è stato quindi confiscato. Questa mattina c'è la consegna, dopo una scelta, una selezione di richieste che è stata effettuata, c'è la consegna all'amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi. Noi l'abbiamo voluto soprattutto come segno di rispetto delle regole e della legalità. Quando un immobile è costruito con l'illegalità, lo si riconsegna alla legalità, credo che sia una vittoria per le istituzioni. Quindi la gratitudine della città di Roseto, del sindaco di Roseto, alle forze dell'ordine, nella fattispecie ai carabinieri che hanno permesso l'acquisizione di questo immobile e lo hanno restituito, come dicevo prima, alla legalità. Ne dobbiamo fare buon uso. Un grazie alla Prefettura, al Dottor Marino, un grazie all'Agenzia del Demanio, che ci consente e ci permette di mettere a disposizione questo immobile alle associazioni che lavorano nella solidarietà, che è il segno forte della nostra città, e nel rispetto della legalità. Dentro la casa, come l'aveva lasciata nel 2004, la famiglia Campanella, in parte anche arredata, il mobilio è praticamente nuovo, c'è solamente tanta polvere all'interno di questi appartamenti. Poi, entrando dall'ingresso, ci sono le scale e c'è anche l'ascensore per salire su questi tre piani più il sottotetto. E qui poi la scalinata e si scende sotto nel garage, attualmente allagato. Ci sarà sicuramente da lavorare per rimettere a posto questo edificio. Faremo un progetto immediato di ristrutturazione per appunto quello che è il minimo restyling che la struttura ha bisogno. Io credo comunque che sia oggi una bella pagina, quindi la disponibilità dell'amministrazione è totale per quello che manca e per l'uso che ne facciamo.